come procedere per smontare gli accessori sulla pasta magic della sirge si preme una volta spenta la macchina si preme questo tastino e si solleva il coperchio si mette asciugare si svita la ghiera la numero 7 e una volta svitata la si mette ad asciugare se è bagnata si tira in avanti il frontalino numero 4 che quello che tiene ferma la pala per impastare e lo si mette ad asciugare devo averlo pulito successivamente si porta in avanti il contenitore della farina la pala si stacca si toglie entrambi dopo puliti si mettono ad asciugare